Semafori di Scalea al Via. Questa mattina, venerdì 7 settembre, è scattato il primo rosso dopo uno slittamento di circa 20 giorni. I semafori infatti dovevano essere attivati già dallo scorso 16 agosto, ma il bolliro nero sulla circolazione previsto per il controeso d'estivo ne ha rimandato l'entrata in funzione. La prefettura di Cosenza infatti ha disposto il rinvio per evitare che il traffico intenso dei rientri della seconda metà di agosto venisse acuito dai rallentamenti dovuti al funzionamento dell'impianto semaforico. Quest'oggi, oltre il rosso, è scattato anche il photo-ed, dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni. Le violazioni saranno sanzionate in base all'articolo 146 del codice della strada, 150 euro di multa e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida per quanti non si fermeranno al semaforo con il rosso. Questo fine settimana potrebbe essere il banco di prova per lo start. Quest'oggi infatti sono iniziati anche i festeggiamenti della Madonna dell'Aureo di Scalea che attireranno in città un numero come sempre elevato di visitatori. Obiettivo principale comunque è la sicurezza stradale. In passato questo incrocio è stato teatro di numerosi incidenti, in alcuni casi anche mortali, proprio per il mancato rispetto dei limiti di velocità o delle regole sul diritto di precedenza. Un bivio particolarmente pericoloso in pieno centro, in prossimità del lungomare e con una serie di attraversamenti pedonali. Per contro, in molti ricordano che l'incrocio non è stato solo teatro di incidenti ma anche di code e ingorghi e in passato non ha risolto di molto il problema della sicurezza stradale. Non resta che aspettare e vedere se il sistema porterà i suoi frutti.